Aspetta Guarda il video Cosa faccio a zoom con questo? Tocca la nebbia Tocca la nebbia Tocca la nebbia Tocca la nebbia Apreggia Tocca la nebbia Tocca la nebbia Aspetta 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 Ancora Apreggia Aspetta Apreggia 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 Apreggio ok ah io sono stronti ma chiede me, cos'hanno gli stessi? ma che hai detto non glielo fate? ma come portaici tu? e' il giugno che dici fanno 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 ma vaffanculo ma che risposta è andato a buttare i denti privi? ho fatto già l'ho detto ma ehm... vado e ha detto dai fai che vindo vino ecco tanta colpa sempre su di me tanto io sono sempre quello cattivo vedi se sono molto ugliale assoppo un po' e qua paga corrente